un secondo set vehemente non basta la promovol sanitas gustago per strappare punti nella tana della Zobatik Davis. Nel Mantovano la squadra di coach Giorgio Nibbio tiene il ritmo delle avversarie per i primi due dei quattro parziali disputati e rimedia così una sconfitta per 3 a 1. Contro Volley Davis la compagine bianco-rossa si schiera con Malvicini, Basalari, Ferrari, Piantoni, Gasparini, Sandrini e Bertoletti libero e nei primi scambi subisce la pressione dai 9 metri delle padrone di casa. Queste si portano sul 3-0 con due ace e una lungolinea di ottima fattura, poi continuano a mettere in difficoltà la ricezione promovol e tirano sull'8-4. Di spazio per una fuga più marcata però le tigri non ne lasciano, anzi dimezzano la distanza con un muro punto di Malvicini che segna il 9-7. Poi correggono le sbavature in battuta e poco più in là completano la rimonta favorita da due ace consecutivi con l'attacco di Basalari che segna il 12-12. Quindi, galvanizzate dal pareggio, si propongono anche in avanti 13-14 ma neppure la Zobatik lascia campo alla fuga, così ne nasce un naturale punto a punto che si protrae fino a quota 20. A questa altezza il sestetto Mantovano trova il più due portandoci sul 22-20 e un paio di giri di lancette dopo conquista il set ball 24-22. La promoball annulla il primo ma non il secondo e Davis si porta sull'1-0 con un 25-23. Con la formazione confermata le tigri danno il via al secondo periodo con carattere e convinzione. La cosa è subito certificata dal tabellone luminoso che prima segna 2-4, poi in seguito a un muro punto di Gasparini e ad una fasta di Piantoni il 3-6. Approfittando di alcuni errori avversari, i malvicini e compagnie tengono il comando, quindi affondano i colpi non appena si presenta l'occasione buona dall'8-13, così si spingono ancora più in là 10-17 e non paghe, segnano il massimo vantaggio 10-19. Con tale margine poi possono permettersi la gestione del finale, contenere senza troppa ansia un tentativo di ritorno delle padrone di casa fino a pareggiare i conti 14-25. Zobatik però non accusa il colpo, anzi resetta e quando il 2 arbitrale consente la ripresa dei giochi parte forte. Poi la promoball annulla il 3-0 e passa sul 3-4, ma si rende pure protagonista di alcuni errori che favoriscono il gioco avversario e prima si ritrova di nuovo indietro 6-5, poi vede le mantovane filar via 8-5, 16-12, 20-12. Il nuovo vantaggio è presto servito e arriva con il parziale di 25-16. Poco cambia nell'ultimo parziale durante il quale i due sestetti tengono lo stesso passo solo nel primo spicchio e cioè fino al 5 pari, perché quel che viene poi è una corsa di Davies che nei team out, nei cambi, nella metà campo promo, il rientro di Susio su Sandrini e gli ingressi di Bergamaschi su Bertoletti e Cherubini su Piantoni riescono a frenare il servizio della Zobatik, infatti crea grossissime difficoltà alla ricezione bresciana e molta confusione e il 3-1 si perfeziona presto per il 25-16. Grazie. Grazie.